Il 16 gennaio 1939 la Meitner con l'aiuto del nipote Otto Frisch, fisico che lavorava nell'istituto Bohr a Copenhagen, mandò una lettera alla rivista inglese Nature con la descrizione del processo di fissione. Fissione o scissione era il nome che Lisa Meitner aveva mutuato dal processo biologico di divisione cellulare per adattarlo alla divisione del nucleo, una scelta inconsapevolmente grottesca dato quello che succederà a Hiroshima e Nagasaki. Comunque Niels Bohr, anche egli fuggito dalla Danimarca in modo rocambolesco dentro la stiva di un aereo, il giorno 26 gennaio in una conferenza a Washington DC annuncia pubblicamente la scoperta della fissione. Tre giorni dopo Oppenheimer viene informato della notizia e legge l'articolo. Capisce immediatamente che ci sono i presupposti per la costruzione di un'arma distruttiva. Ma ben prima che l'articolo fosse pubblicato, la voce si era già sparsa. Leo Szilard, fisico ungherese anche egli in esilio dalla Germania, si era già recato dal collega compaesano Eugene Wigner alla Columbia University di New York, dove collaborava con Fermi, che come sappiamo si era trasferito negli Stati Uniti. Szilard aveva letto il racconto di Wells sulla bomba di cui abbiamo parlato e fece 2 più 2. Quello che infatti avveniva durante una fissione, oltre lo spaccamento del nucleo iniziale in due elementi più piccoli con il rilascio di energia, il rilascio di energia per l'equazione di Einstein, c'era una piccola differenza o difetto di massa tra prima e dopo lo spaccamento del nucleo, ma c'era anche l'emissione di altri due o tre neutroni. Così se i neutroni emessi avessero incontrato nuovi nuclei di uranio, questo avrebbe causato ulteriori fissioni, che a loro volta ne avrebbero determinate altre, con un aumento esponenziale del numero di scissioni, ovvero un rilascio devastante di energia, per lo più distruttiva, e la cosiddetta reazione a catena. Szilard addirittura brevettò il procedimento. Siamo alla vigilia della seconda guerra mondiale e né Szilard né Wigner né gli altri fisici potevano rimanere indifferenti a quanto stava accadendo. Soprattutto i due fisici ungheresi si resero conto del pericolo che poteva rappresentare la conoscenza di questi meccanismi nucleari nelle mani dell'esercito nazista. Corsero dunque i ripari e insieme a un altro collega profugo Magiaro, Edward Teller, lo scienziato che nel 1991 vinse il premio Ignobel, un premio parodistico, come padre della bomba all'idrogeno e probabilmente fu colui che ispirò Stanley Kubrick nella creazione del dottor Stranamore, si recarono da Albert Einstein. Insieme pensarono a una soluzione che potesse da un lato occultare il più possibile le informazioni in modo da non farle finire nelle mani sbagliate e dall'altro dare l'avvio a un progetto che portasse all'utilizzo di queste conoscenze per la creazione di un ordigno così potente che, così ingenuamente si pensava, potesse favorire la fine della guerra. Einstein infatti aveva più volte espresso le sue preoccupazioni per la situazione che si stava creando in Germania e in Europa. Per di più Einstein era probabilmente l'unico scienziato di grande visibilità popolare e perciò con un certo peso politico. Dunque concorde con i tre colleghi sull'urgenza di intervenire e comprese che sarebbe stato opportuno realizzare una bomba prima dei tedeschi. Scrisse così una lettera al 32esimo presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, il 2 agosto 1939, praticamente un mese prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. E poche settimane più tardi, il 6 ottobre, Roosevelt, inizialmente scettico, decise di stanziare 6.000 dollari per quella che in un primo momento si chiamò Commissione per l'Uranio e che in poco tempo divenne invece uno dei programmi più ambiziosi, segreti, dispendiosi e importanti di tutta la storia della scienza moderna. Il progetto Manhattan. Il programma segreto partì ufficialmente il 6 dicembre 1941. Il giorno dopo gli giapponesi attaccarono la base di Pearl Harbor, scatenando quella serie di eventi che portarono gli Stati Uniti a entrare in guerra. Ma torniamo alla fissione nucleare. Essa libera molta più energia di un decadimento radioattivo e si realizza, con la reazione a catena, molto velocemente, sufficiente una frazione di secondo. Un'energia potenzialmente incontenibile e devastante. Il problema era proprio questo, trovare il modo di controllare questa reazione a catena. Probabilmente uno degli aspetti più complessi del programma, ma non il solo. Ne parleremo nella prossima puntata.